Ciao a tutti, in video precedenti abbiamo parlato di come migliorare l'assetto, quindi degli ammortizzatori sportivi, delle molle rimassate, dei distanziali. Chiaramente non sono solo questi componenti che fanno parte dell'assetto e che si possono migliorare, soprattutto se abbiamo voglia magari di andare a fare qualche turno in pista. Ci sono tanti altri prodotti molto interessanti, quindi ne parleremo dettagliatamente, però volevo farvi una piccola breve panoramica. Allora possiamo andare a montare delle barre d'uomi, anteriori e posteriori, delle barre di rinforzo, anteriori e posteriori, delle barre antirollio, anteriori e posteriori, dei bracci rinforzati, delle biellette, delle testine. Possiamo andare a montare delle piastre che ci aiutano a regolare il camber. Dimentico qualcosa? Sì, ci sono anche dei supporti, non rientrano proprio nell'assetto, però in questa macro categoria, che consiste nell'irrigidimento della sospensione dell'auto e di vari punti, e nella possibilità di regolazione rientrano anche i supporti. Quindi ve li spiegherò dettagliatamente nei prossimi video e nel frattempo continuate a seguirci su Instagram, YouTube, Facebook e TikTok e naturalmente anche sul nostro sito www.repartocorsestore.it Alla prossima, ciao!